Wella ragazzi, ciao a tutti e ben tornati qua su Car Mechanics Simulator Allora ragazzuoli, nell'ultimo gameplay abbiamo dato una bella sistemata a questa nostra autovettura Ma però, mo c'è un problema, mancano i soldi Non abbiamo abbastanza soldi per continuare il lavoro su questa macchina Quindi, teoricamente, dovrei lavorare su qualcos'altro Sperando che mo 2300 crediti me bastano Speriamo Pogliamo questa macchina Vediamo un po' di lavorarci su Speriamo che i soldi, ripeto, me bastano Allora, in teoria devo sistemare la carrozzeria Naturalmente, dato che posso riparare la carrozzeria, dovrei farcela Peccato per il lunotto E sta roba qua, sa da comprare Vabbè, comunque Nulla di troppo complicato Speriamo che riusciamo a A sistemarla con poco e a guadagnare 2 lire Allora, vediamo un po' Io penso che mi tocca sistemare L'unotto posteriore e me lo segno Che cavolo manca poi Il fanale anteriore destro mi pare che non andava bene Che altro manca? Fanale anteriore destro Finestrino sinistro L'unotto Parafanco anteriore Paraurti anteriore Paraurti anteriore Pure il paraurti Va bene Allora, quindi Veniamo un po' Perché purtroppo Senza soldi Non si fa niente Cerchiamo di Non scassare le cose Ok 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 Allora, quello che potevo riparare L'ho riparato Purtroppo ci sono cose che non si possono riparare Per tutto il resto Vabbè, immaginate No? Ho fatto una battuta Allora, paraurti anteriore Paraurti Parafango Portiera Questo non era da riparare Ma io l'ho riparato già che c'ero Offre la casa In pratica Allora, vediamo un po' Carrozzeria Takumi Vediamo un po' Questo non mi serve L'unotto Duecento Alla faccia Finestrino Centocinquanta E questo Centocinquanta Speriamo che non ho sbagliato nulla Allora, nuovo di zecca Nuovo E nuovo Finestrino Sinistro Finestrino Sinistro Oh cavolo Mi sa che ho sbagliato Mi sa che ho montato No Ho comprato quello sbagliato Che è pizza Mi sa eh Eh Mannaggia Allora Poi dice Che devo cambiare Tutti i liquidi Va bene Allora Svuotiamo tutto Sono quattro i liquidi Tranne l'olio L'olio non me l'ha chiesto Questo è il secondo Terzo liquido E per finire Il refrigerante Che si trova qua Ma facciamo il cambio Mettiamo i quattro liquidi Nuovi E Niente Purtroppo Sono andati via un po' De soldi Speriamo che Riusciamo a ricodegnare Due lire Primo liquido Secondo liquido E così via Ok Allora Tutti i liquidi Inseriti Tutto fatto Stato vettura Concludi ordine Ah manca la targa Chiedo scusa Mio piccolo errore Ecco qua Fatto Beh buono cavolo Era 2004 Ne ho 4000 Non è stato niente male Sta roba La vendiamo Perché tanto Alla fine Che cacchio Ce devo fa Ok Potrei vendere Qualcos'altro Ma meglio Meglio di no Meglio di no Non si sa mai Allora Vediamo se c'è Qualche altro Lavoretto 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 La carrozzeria Di solito Paga proprio bene No Mi è sparito Ah eccolo qua Accetta ordine Vediamo Abbiamo bisogno Di fare Due lire in più Ragà Perché se no Si mette male Allora Tutto ciò Che è carrozzeria A me va bene Perché paga bene Si sente Revisione Sospensioni I freni Accelera Ripara Madonna E non c'è Bisogno di niente Eh Qui me sa Che è un bel problema Devo riparare Tutta la carrozzeria Non devo sbagliare Ho un po' di paura Devo dire Tutta sta roba La possiamo anche Togliere Perché tanto Non lo so Se questo va cambiato Sembra buono Questo è da cambiare Di sicuro Ok Allora Continuiamo a Continuiamo Semplicemente A riparare La carrozzeria E poi Quello che non si può riparare Lo si compra Speriamo di non sbagliare Mamma mia La paura più totale Non devo sbagliare Niente Vai così Buono 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 Tutto quello che potevo Riparare L'ho riparato Ed è un gran risparmio Cavolo Il cofano Non si può riparare Troppo danneggiato E quindi Va comprato Paraurti posteriore Buono Bagagliaio Mannaggia Va comprato Buono Questo è buono pure Gli specchietti Io li ho sistemati pure In teoria Questo era scassato No 29% Fa schifo proprio Segna 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 Allora Devo selezionare La macchina giusta Oddiamine Il cofano B Forse che il cofano B Ecco Ma do Mille costi C'è la roba Che non si può riparare E' quella che mi costa pure di più Ottimo Ottimo Veramente Vuoi vedere che rimango senza una lira Che ancora C'ho da riparare Un botto di cose Ma che è sto cosa Ah è quello buono pure Quindi abbiamo detto Di tipo B Di tipo B Mamma mia Me ne sto a pentire Me ne sto a pentire Cioè Cioè sono rimasto senza una lira E speriamo che non c'è altro da cambiare E speriamo proprio che non c'è altro E qual è Tutte e due lui Questo l'ho comprato vero No Non l'ho neanche comprato Difatti Fanale posteriore Destro B E ciao Ho finito i soldi E mo Ma attacco 8,80 Eh rimango senza una lira Porca di quella E mo Mica pensavo che costava così cara Sta macchina Aspetta Che abbiamo da vendere noi Noi abbiamo qualcosina Che posso togliermi Vabbè di sicuro Buttiamo via sta roba Tutta sta roba Bene o male Qualche cosa ancora ce la vale Non vale granché Ma almeno Mo quindi qua Nasce il problema Che vendo Perché ho paura Che poi vendo qualcosa Dall'altra macchina Vabbè Allora facciamo una cosa Prima di pensare A sto fanale Mancante Vediamo se Vediamo se riusciamo A combina qualcosa Qua Perché purtroppo Sta macchina Ha ancora un mucchio di problemi Non è solo Una questione di carrozzeria Sta macchina C'ha un botto di problemi C'ha a quanto pare Da cambiare Tutti Tutte no Ma le pinze Almeno due So da cambiare Magari erano riparabili Ste pinze Sicuramente no Allora Vabbè Allora La pastiglia Non è un problema Perché ne ho qualcuna Qua mi sembra Ok Però c'è da smontare Comunque C'è da smontare Comunque Che c'è un pezzo Che va cambiato Completamente Mi sa che lo cambiamo Subito Così Non 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 vada in confusione Vediamo un po' Ma anche lì Ah quello è lo scarico 68% Ok Togli questo E devo togliere Mezzo mondo Ancora Quindi per togliere Questo Devo togliere L'ammortizzatore Che miseria Questa è una boccola Al 59% Ah Devo sollevare La macchina Tanto andava Sollevata Comunque E vabbè Ho capito Ma Si tratta Di un pezzo Proprio odioso Ok Boccola Al 63 Allora Sto cosino Qua Se me lo fa Riparà E' già Un risparmio No Non c'è niente Di riparabile Sta roba Già di per sé E' messa Così Così Mamma mia Però I soldi Mamma mia I soldi So Ho un problema Allora Aspetta Un attimo Rimettiamo La sua Di roba Il problema Sono le boccole Il mio problema Sono le boccole Perché non vorrei Che poi Dici Ah ma Hai messo Boccole Troppo rovinate E poi Valla Sostituire Un'altra volta E' quello Che mi scoccia Di più Poi Boccole In gomma Che ne saccio Qual era 59 In teoria Sta macchina Minimo 58 Minimo Speriamo Bene Se no Mi tocca Sbontare Qua dietro Di nuovo Ok E ciao Guarda quanta roba Che c'è Ma si ma In teoria Questa è la roba Sua Cioè in teoria Non mi pare Che avevo Boccole vecchie Che cavolo Ne sono Qui c'è Una boccola Piccola Ed è L'unica Questa E quindi Mi pare Che mi Avanzano A boccola Mezza Rovinata Vuoi Vedere Che Quella Da Problemi Tappo Molla La Molla Cuscinetto Che manca Mettiamo il disco Mettiamo la pastiglia Sua La pinza Sua Quella Più o meno Buona Ok In teoria Ecco Pure qua C'è da sostituire Una cosa Ma io lo so Che non ce la facciamo Con i soldi E come Famo C'è ancora Mezzo mondo Da riparare Perché mo Ci vogliono Due pins Questa pizza Dopo che ha più Salta fuori Ah Questa è quella Che era già qua Ma ci vuole Un silenziatore Marmitta Catalitica E poi Questo Ok Allora Devo comprare Quindi Questo E questo E già Con i soldi Stiamo messi Malino Allora Vediamo un po' Stato Vettura Eh Ancora Manca Un botto De roba Manca Un botto De roba Ok Questo Per fortuna Non costa Niente Sa da Comprà Però E dovrei Aver risolto Questo Problema Alle Sospensioni E allora Se ci sono Problemi Alle Sospensioni Se dietro Io già Un'occhiata Ce l'ho Data Eppure Oh Sarà Mica Sto Coso Che Non mi Pare Mica Messo Bene Non mi Pare Messo Granché Beh Pare Così Così Cioè Pare Tipo Burro Rovinato Vediamo No No E Ok E allora Quale cavolo E' il problema Alle Sospensioni A me Sembrano Più o Meno Ok Ah Ok Trovate Il problema Dai Per fortuna Non è nulla Di troppo serio Cuscinetto Non ne abbiamo Compriamone due Perché Mi sa che Mi sa che Pure dall'altro lato Non va bene Forse Comunque Finché Questo Eh no Invece qua Il cuscinetto E' buono Cavolo Cuscinetto E' l'altro Che cacchio E' Forse è un cuscinetto Che va dietro Anche dietro Mi pare che ci stanno I cuscinetti E non si E non si Vede C'è ma Non si Vede E di fatti Eccolo qua Ok Almeno non è andato Sprecato Quel cuscinetto In più Quindi Questo è andato Questo è andato Problema ai freni Già so cos'è Questo so che cos'è Va bene Possiamo rimontare Mi pare che E' tutto No 225 245 Quindi Dietro montiamo Quelle 245 E davanti Montiamo il 225 Quindi andiamo dall'altro lato Anche qua Il 245 245 E non mi bastano I soldi Però Devo comprare Due pinze Ahimè Pochi soldi Devo trovare il modo Di comprare Quel pezzo Mancante Potrei già Rimontare Credo Fino a qua Ci siamo L'altra pinza Cerchione Da 225 Allora Manca Mancano Due piccole Due cose Che costano Manca Un attimino Questo Collettore Di scarico Magari Mi faceva riparare Dubito che me lo fa Riparare Andiamo a vedere No 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 Ah è già che poi Il collettore di scarico Mai si può riparare Ora che ci penso Ok Allora Collettore Costa poco Per mia fortuna Il problema È che l'ultimo Pezzo Costa più di Quello che ho Devo vendere Qualcosa Forse ce la Caviamo Proprio Ce la Caviamo Ma proprio 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 Manca solo Il fanale Posteriore Destro B Che è quello Che non mi posso Permettere Fanale Posteriore Destro B Allora Innanzitutto Vendiamo Le cose Troppo Scassate Quindi Vendiamo Tutto Quello Che è Sotto Al 50% Non mi basta Per comprare Un bel niente Vendi pure Sta cosa Che non me ne Faccio Niente Allora Il discorso È Io Per poter Comprare Sto Benedetto Fanale Necessito Di 792 Quindi Più o meno Mi servono 200 Crediti Per fortuna Non è neanche Tanto Però 200 Crediti Dove li piglio Sto coso Non vale Niente Mamma mia Non lo so Devo vendere Qualche cosa Vabbè Vendiamo Il finestrino Che ho comprato Per sbaglio Che tanto Non mi serve Di sicuro Disco Della frizione No Non mi basta Pompa Dell'acqua Ma si Vendiamo La pompa Dell'acqua Vendiamo Quelle due cose Che costano Poco Qualcosa Che non Mi costa Molto E che posso Comunque Ricomprare E via 789 Me basta 789 No Non me basta 789 Ho bisogno Di vendere Ancora Qualche cosa Ce la famo Siamo rimasti Raga Con un credito Ma direi che Mo la macchina È completa Mamma mia Mamma mia Oh mamma mia Per ora Che ha Oh però Ci siamo arrivati Proprio con le pezze Al cucù Olo Olo Eh Proprio Ci siamo arrivati Con le pezze Al culo Insomma Sì Ci siamo arrivati Proprio male Ma per fortuna Abbiamo 10.000 crediti Mo Io direi Che È meglio Andarci piano Con sta macchina Perché Rimanere con pochi spiccioli È veramente 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 Rischioso Veramente rischioso Mi sa che conviene Fare almeno Un altro lavoro C'è una missione Qua Le missioni di solito Pagano bene Oh mio dio Oh mio dio 10.000 crediti Non me bastano Per riparare Sto catorcio Sto coso qua Se si buttano Famo prima Sì Ciao È da buttare Sta macchina Non è da riparare È un ferro vecchio Lo sfascio Questo è da portare Lo sfascio Vabbè va Ragazzuoli Conclude il gameplay Che purtroppo Il tempo è volato via E qui sta macchina Mi impegnerà Tutto il prossimo gameplay Oltretutto Ho paura Che pure per sta macchina 10.000 crediti Non me bastano C'ho proprio Sta mega paura Perché questa cosa qui Cioè È messa peggio di questa Ditemi voi Come dovrei fare io È messa peggio di questa Mi costa Un botto di soldi Ripararla Sicuro A 100% Vabbè Vediamo In caso sapete Che famo Nel prossimo gameplay La mettiamo da parte Sta missione E facciamo Un'altra macchina Perché è proprio Una cosa assurda Questa Va bene ragazzuoli Spero che il gameplay Vi sia piaciuto Vi ricordo che in descrizione Trovate un link Che vi permette di comprare Questo gioco E tanti altri scontati Vi ricordo I miei social Quindi TikTok Facebook Instagram Eccetera eccetera Twitch Se vi va di guardarmi Live Insomma in descrizione Ragazzi Dateci un'occhiata Ci becchiamo presto Ciao alla prossima Ciao